Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di giovedì 1 ottobre. Allora, cosa è successo ieri? Ieri abbiamo avuto una fortuna pazzesca, ovvero c'è stata la creazione di uno swing estremamente vicino al punto di partenza del quarto T-3 e quindi in violazione del massimo 12.759 invisibile per chi non vede queste cose ho dato al gruppo che mi dà più tempo per imparare l'analisi ciclica evoluta il long per la partenza appunto del quarto T-3. Cosa è successo? La violazione c'è stata su questa candela, poi siamo ridiscesi, poi risaliti, poi ridiscesi leggermente sotto il nostro prezzo di ingresso che era questo appunto, che era 12.759 e poi siamo andati su, bucando non soltanto la media mobile a 50 periodi ma arrivando persino a un bel livello che è rimasto di pochissimo sotto questo, 12.873, qui siamo a 12.869,68. Ho segnalato anche che in caso di violazione appunto di questo massimo e qui avremo che tutto il resto del T settimanale si vincolerà a ribasso se non si è chiuso qui perché qui siamo arrivati appunto a 4, 5, 6, 7 e se andiamo sopra 8 e continueremo a salire eventualmente. Ma attenzione, 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 attenzione. Se invece non arriveremo lassù, cosa è estremamente possibile? da qui sarà partito appunto come indicato un nuovo T-3 e qui avremmo avuto la continuazione del precedente T con 8, 9, 10, 11 e chiusura con l'undicesimo. D'accordo? E' sempre questo il punto focale di cui vi parlavo. E perché oggi sono un pochino più propenso teoricamente ad aspettarmi perlomeno una giornata un po' di discesa dopo la partenza del quarto T-3 per il fatto che ho visto apparire dappertutto una certa cosa, ovvero che candela è questa? Shooting Star. Su, stanno nel posto 500. Qui una sorta di Shooting Star o comunque quasi una Gravestone. quindi attenzione, anche in questo caso ancora peggio teoricamente e stessa identica cosa qua. Questa può portare a una chiusura di T-1 che per quanto riguarda il DAX può tranquillamente appunto avvenire non soltanto con il terzo dove abbiamo avuto la condizione sufficiente per la chiusura del T-1 del ciclo a metà settimana che ha fatto 1, 2 e 3 che può essere un 3 tempi o un 4 tempi per cui può fare così e poi andarci sotto. In questo caso valuteremo lo short, ma sempre, come al solito, dopo le 10.01. Altra cosa interessante che vi faccio notare è che se appunto questo massimo non verrà violato avremo spinto verso il basso come ci dicono teoricamente le candele giapponesi che vi ho fatto vedere. se invece verrà violato ho promesso di fare uno studio importante su questa parte dell'SMP500 perché qui si scinde bene per ora il T-1 inverso che ci dice 1 movimento a 8 1 movimento a 11 e quindi dovrebbe spingere forte verso il basso il discorso è che qui c'è una variante estremamente pericolosa perché da questo massimo come affrontato ieri con gruppo di amici e gruppo premium su Facebook può esserci una variante per cui attenzione ok? la candela dice discesa e lo dice su tutti i mercati il T settimanale può scendere per una conferma di chiusura di T-1 e per quanto riguarda il il Fulzimib stessa identica cosa anche qui abbiamo che però non andremo in chiusura di T-1 che è probabile che ci sia stata qua se ci andremo caspita andremo sotto questo minimo qua sotto il minimo a 18.873 quindi tanti punti sotto adesso lasciamo che parta il quinto T-3 almeno qui e poi vedremo che cosa succede anche perché i future sono positivi per cui abbiamo che oltre le 33 barre può star serenamente partendo appunto questo ciclo e quindi in questo caso attenzione a questo massimo a 19.210 perché è molto molto vicino ai 19.231 e qui stiamo ancora aspettando di capire quando vuole chiudere questo settimanale o se da qua è partito un nuovo settimanale perché anche qui avremo 6 7 8 9 10 partenza nuova settimanale con spinta verso il basso direi che è tutto non voglio prendere altro tempo intanto i livelli dell'algoritmo verranno dati alle persone che fanno parte del gruppo che si impegna di più a imparare la ciclica voluta vi ringrazio per l'attenzione sarà una splendida giornata per l'attenzione